In viaggio con Abinsula. A noi piace il concetto di digitalizzazione, cioè ci piace cercare di lavorare con delle aziende che vogliono digitalizzare i propri processi. Quindi ci piacerebbe aiutare le realtà locali, dall'amministrazione comunale, anche aziende private, che magari hanno bisogno di un partner vicino che li possa aiutare nell'ammodernamento delle proprie strutture. Molti non sanno che magari gli ingegneri che vanno a cercare fuori ne hanno 60 al centro di Sassari. Quindi ci piacerebbe lavorare insieme alle realtà locali per cercare di esportare noi la tecnologia e magari i loro prodotti.